Eccoci di nuovo con i consigli di buona visione a cura della Commissione Nazionale Valutazione Film, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Anche questa settimana vi proponiamo sette titoli tra film e serie tv da recuperare attraverso le principali piattaforme. Iniziamo come di consueto da quella del servizio pubblico, da RaiPlay, e questa settimana ci troviamo proprio di fronte a delle importanti novità, perché grazie all'accordo con Rai Cinema verranno proposte delle importanti anteprime di cinema nazionale. Una di queste, disponibile dal 28 di maggio, è Bar Giuseppe, un film scritto e diretto da Giulio Base e presentato in anteprima alla 14esima Festa del Cinema di Roma. Bar Giuseppe all'inizio si presenta come un dramma sociale che racconta le periferie italiane di oggi, tra carenza di lavoro, isolamento sociale e difficoltà di integrazione culturale. Ben presto però il film si trasforma in una favola sull'incontro, sulla riconciliazione, un film denso di speranza dai profondi richiami religiosi. Sì, è un film parabolico, appunto, che raccontando una storia attuale, attiva dei collegamenti, dei rimandi con la storia delle storie, ovvero la nascita di Gesù. Protagonista è un sessantenne Giuseppe, interpretato da un bravissimo Evano Marescotti, che porta avanti l'attività di un bar in una stazione di servizio. La sua attività è abbastanza regolare e grigia. Giuseppe è sfiancato dal lavoro, a un certo punto non sa più come gestire la situazione e decide di prendere un aiuto. Un aiuto inizia così a fare dei colloqui e tra i vari candidati si presenta una giovane africana quasi ventenne, Bikira. Tra i due nasce una timida amicizia, un tenero affetto che si trasforma ben presto in amore. La comunità del posto li guarda con sospetto, con forte pregiudizio, soprattutto fermandosi alla soglia della differenza d'età. Ripeto, il film è in verità un richiamo parabolico, una favola che richiama appunto la figura di Maria e Giuseppe e le difficoltà sperimentate a suo tempo. Un film che si apre dunque all'incontro, alla tolleranza, alla solidarietà e alla speranza. Davvero una bella proposta per tutta la famiglia, ovviamente adatta principalmente a una riflessione con un pubblico adulto, da destinare a un contesto familiare, ma anche da recuperare in contesti educativi e pastorali. Secondo titolo è la commedia pennellata e drammatica La pazza gioia di Paolo Virzi, un film del 2016 presentato al Festival di Cannes e diventato subito protagonista nella stagione cinematografica 2016-2017, vincendo ben 5 Davidi Donatello e 5 Nasti d'Argento. La storia ci parla di due donne, Beatrice Donatella, la prima interpretata da Valeria Bruntideschi, la seconda da Michele Ramazzotti, che si conoscono in un centro per disturbi mentali. Due donne con due caratteri totalmente diversi. La prima, Beatrice, è ciarliera, spumeggiante e continuamente snocciola delle amicizie altolocate. La seconda, Donatella, invece, è più timida, chiusa in se stessa, trincerata nel suo dolore. Due mondi così diversi che però si ritrovano grazie a una fuga, a una rocambolesca fuga dal centro dove entrambe risiedono, una fuga on the road per le vie d'Italia in cerca di libertà, in cerca di speranza e in cerca anche delle risposte alle domande aperte sulle loro vite irrisolte. Davvero un film trascinante, coinvolgente, ironico, ma anche denso di temi e suggestioni importanti. Un'opera ben governata da Paolo Virgì e ben scritta dallo stesso regista insieme a Francesca Archibugi. Una proposta che metterà d'accordo la famiglia, soprattutto adatta a un pubblico più adulto per cogliere anche i diversi livelli di profondità. Terzo titolo ci conduce invece sulla piattaforma Apple TV Plus e in generale tutte le piattaforme che danno la possibilità di noleggiare film. Parliamo della commedia drammatica Jojo Rabbit di Taika Waititi. Jojo Rabbit è stato uno dei protagonisti della stagione cinematografica mondiale 2019-2020. Era in corsa agli ultimi Oscar per ben sei statuette, tra cui miglior film. Se ne è giudicata una importante, che è quella per la miglior sceneggiatura non originale dello stesso Taika Waititi. Il film prende le mosse da un romanzo e racconta che cosa? Racconta il percorso formativo di un bambino di dieci anni che scopre che cosa? Che passa dall'ingenuità alla vita adulta. Siamo nella Berlino del 1945. Jojo Rabbit è un bambino solitario che vive con la mamma Rosie, interpretata da Scarlett Johansson. Ha un amico immaginario e questo amico immaginario è Adolf Hitler. Jojo continuamente guarda a lui, lo guarda con fanatismo, desiderio di emulazione. Partecipa alla gioventù hitleriana, ma Jojo non è come tutti gli altri bambini, come tutti gli altri ragazzi. Non riesce a far male a nessuno, non riesce a muovere nessuna idea negativa nei confronti del prossimo. Un giorno Jojo trova all'interno della propria abitazione, nascosta in soffitta, una ragazza ebrea, Elsa, che la madre ha salvato dalla deportazione e nascosto. L'incontro con questa ragazza diventa salvifico. Perché? Perché Jojo capisce che cosa? Che le idee con cui è stato raggirato, le idee con cui è stata infarcita la sua mente, appunto, legata al mito nazista, alla supremazia di Elsa, sono in realtà parole vuote, parole malate, parole velenose. Con l'incontro con Elsa in realtà scopre che cosa? Scopre la tenerezza, scopre la prossimità, scopre anche la vita vera, il dramma che si sta consumando in quel momento nel cuore dell'Europa e il grande problema, appunto, della Shoah. Un film che parte in maniera frizzante, irriverente, con una commedia amara, amarissima, ma anche esilarante, che richiama il mondo, la comicità di Mel Brooks, ma ben presto invocca il sentiero, appunto, del dramma storico, della riflessione educativa sui temi della memoria e della Shoah. Davvero una proposta originale, che mette molti temi in campo, dai importanti guadagni educativi, che racconta, appunto, il dramma della Shoah attraverso la leva dell'umorismo, dell'umorismo garbato e rispettoso, al pari, appunto, della Vite Bella o di Trendevi. Davvero una bella proposta per tutta la famiglia. Arriviamo al quarto titolo, che ci porta sulla piattaforma Netflix. È una serie, è un'anzi una miniserie di quattro puntate, di matrice tedesca, ed è Anorthodox. Anorthodox viene da un romanzo di successo, un romanzo autobiografico di Deborah Feldman, e racconta che cosa? La storia di una giovane donna di 19 anni, Esti, che vive nella comunità ultra ortodosta, fascista, a Williamsburg, nei pressi di Brooklyn, negli Stati Uniti. Esti è cresciuta dalla sua famiglia, pensando unicamente a diventare una brava moglie. Una donna che ha messo da parte ogni sogno, ogni ambizione, ogni desiderio formativo, o anche la sua profonda passione per la musica. Quando si sposa, 19enne, con il coetaneo Yankee, in realtà scopre che cosa? Che quello che doveva essere il punto d'arrivo della sua vita diventa una gabbia, una prigionia. Esti è infelice, Esti è sotto pressione dalla parte della famiglia e dalla comunità ultra ortodossa, così di nascosto organizza una fuga e vola nel vecchio continente. Vola a Berlino sulle tracce della madre che l'ha lasciata quando era piccolissima. Senza voler entrare su una riflessione religiosa, che cosa è interessante sottolineare di questa bellissima miniserie in quattro puntate? È uno sguardo sociale, è il racconto di una giovane donna che va dal buio alla luce. Una giovane donna che si libera appunto di costrizioni e di impedimenti e abbraccia la vita in piena libertà e con desiderio appunto di poter realizzare i suoi sogni. A Berlino la prima cosa che fa Esti è dirigersi verso una scuola di musica e provare un'audizione. Un film molto duro, potente, asciutto, incisivo, che però conquista appunto per struggimento e poesia. Davvero una proposta interessante, adatta in questo caso a un pubblico adulto, visto i temi. Andiamo avanti, prossima proposta è un family drama statunitense. Parliamo del successo della Fox NBC di Cisas. Sono quattro stagioni all'attivo disponibili sulla piattaforma Prime Video di Amazon. È proprio del mese di maggio la notizia che verrà fatto un remake della serie italiano realizzato da Rai e Cattleya. Perché? Perché This Is Us è una delle serie degli ultimi anni di grande successo che racconta in chiave originale, con una scrittura davvero ben articolata, il mondo della famiglia, la famiglia dall'inizio degli anni Ottanta ai giorni nostri. La storia di una coppia, Jack e Rebecca, interpretati rispettivamente da Milo Ventimiglia e Mandy Moore, che negli anni Ottanta stanno avendo il primo figlio. In realtà è un parto gemellare e in occasione del parto in ospedale decidono di accogliere nella loro famiglia un altro rionato, Randall, che è stato abbandonato. Quindi vediamo immediatamente questa famiglia con tre figli della stessa età, ma il racconto non è lineare nel tempo, bensì in ogni episodio ci sono continui salti temporali, come lo sfogliare, l'album di famiglia. Quindi passiamo in continuazione dagli anni Ottanta, agli anni Novanta, agli anni Duemila e vediamo quindi Jack e Rebecca alle prese con i figli piccoli, ma al tempo stesso la vita adulta di questi ragazzi, attraverso le loro carriere e i loro problemi sentimentali e la formazione di famiglie a loro volta. Un family drama davvero, ripeto, ben scritto, con molte tematiche sul campo, ma governate tutte con grande compostezza, con grande attenzione e con belle sfumature di sentimento e sì anche poesia. Sesta proposta è un'altra miniserie, una miniserie disponibile sul canale La F oppure sulla piattaforma del gruppo Sky, Nautibu. Parliamo della Guerra dei Mondi, nuovo adattamento del classico della letteratura di fantascienza di Wells, targato BBC. E quando si parla di BBC abbiamo la garanzia di una grande cura formale, di un'ottima scrittura e di un'ottima messa in scena. È la storia appunto della minaccia, dell'invasione di meteoriti sospetti, di marziani nell'Inghilterra eduardiana, quindi di inizio XX secolo. I protagonisti sono una giovane scienziata, Amy, interpretata dall'attrice inglese Eleanor Tomlinson, nota a tutti per la serie Poldark, e anche dal giornalista George, interpretato da Rafa Spall. Un film che coniuga, che mette insieme l'elemento di fantascienza, il dramma storico bellico, ma anche una componente romance. La scrittura e la regia sono compatte, ben governate, e ne viene fuori un buon prodotto che piacerà agli appassionati di fantascienza, di letteratura storica, e a chi appunto vuole cercare una proposta originale a disposizione. Ultimo titolo, settimo titolo, è una bella commedia educativa, una bella commedia targata Disney, e la troviamo appunto sulla piattaforma Disney+. Sulla piattaforma Disney+, abbiamo detto più volte, ci sono tutto il mondo dei cartoon della Casa di Topolino, i cartoon realizzati anche con la divisione della Pixar, ma anche i film sui supereroi Marvel, o il mondo di Star Wars. Bene, accanto a tutto questo c'è un importante filone di film a sfondo educativo. Tra questi abbiamo scelto un'opera del 77, che è Una ragazza, un maggiordomo e una lady. Il titolo originale è Candle Show, che prende le mosse proprio da un romanzo inglese, Christmas at Candle Show, e ci racconta che cosa? Ci racconta la storia di una giovane ragazza americana, Casey, interpretata da una giovanissima, Jodie Foster, che rimasta orfana per sbaraccare il lunario, accetta la frode e l'inganno ai danni di una anziana lady inglese, Lady St. Edmund, interpretata da Helen Hayes. Casey si spaccia per la nipote scomparsa in terrenata della donna, dunque si fa accentare nella residenza di Candle Show, dove si sospetta che esista un tesoro nascosto. Tutto sembra finale per il verso giusto, ma il problema è che Casey inizia ad affezionarsi a questa anziana donna, inizia ad affezionarsi al maggiordomo Priory, interpretato da un sempre bravo David Niven, e alla piccola comunità di ragazzi orfani che la signora ospita all'interno di questa residenza. Quello che appare appunto come l'incipit di un inganno, di una truffa, si rivela invece l'abbraccio tenero di una famiglia ritrovata, quindi un film che mette in campo tutta una serie di importanti temi educativi, come il tema appunto della famiglia, della solidarietà, dell'amicizia, della verità e della giustizia. Una bella proposta di evasione e di riflessione da scoprire o riscoprire appunto tutti insieme sul divano di casa. Finisce qui il nostro appuntamento e rimandiamo, ci vediamo la prossima settimana. Una buona visione a tutti.